www.savicevic.it Raúl, la entrega para Ronaldo, se la echó un poco larga, sino luego se va Raúl, Ronaldo, se mete en velocidad, ahí va a buscar el pase para Raúl. Ronaldo, para dos adversarios, mantiene el proceso de pago. Sobre Ronaldo en banda derecha, marcado muy de cerca, llega Ferreira, se la quita, se la quita, a ver, pero no puedo con Cáceres. Ronaldo. Scaloni, got back, did well, but Ronaldo's still going strong. Ahí está Ronaldo, con él Puyol. Ronaldo le quita la pelota a Puyol. Fede, Fidan. It's not been like that, uy, Ronaldo, here's Ronaldo, through, Ronaldo, hit that hard at Molina. Ronaldo. Devante, the team coached by Bernd Schuster. Looks like this. 3-3-5-4-3-4-3-2-4-3-4-5-4-5-5-4-4-1-4-5-5-4-4-5-5-4-5-5-6-7-4-2-4-6-6-7-4. una marcazione cima del che vuolta meno vance gonzález briga ronaldino saldo gonzález fico zona di fico se va metter fico fico para ronaldo 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 canto di ronaldo se le escapò la possibilità e attenzione ronaldo dans l'axe il è passato ma è in couverture l'orant blanc che mette un corno balon per ronaldo contro l'occhini sui da ronaldo il falte indica il collettio di l'encuentro ronaldo è tutto il potezza è stato lei visto fare ma che lei ma che lei guardate con ronaldo come sarà ronaldo o con che abilità che cañito che cañito sobre frizz creo che è ronaldo è stato ronaldo per ronaldo per ronaldo guardate con contraattacce questa è la balla questa è la del gioco guardate con ronaldo ronaldo va a seguire il bracio è stato anche in spagna che ha toccato ronaldo il ballone è stato più lungo di ronaldo il ballone è stato di ronaldo è stato più difficile attenzione fai con i finali attenzione il potuto risultato ronaldo and he's gone down, he won't get anything like that Ronaldo, Ronaldo, Nesta, Ronaldo, lo punta ancora, Nesta lo fai Ronaldo, Maruscheni è proprio il prochef Ronaldo Ronaldo, supera Gattuso, ancora Ronaldo Ronaldo, Nesta lo eccessiva Ronaldo 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 è meglio Il suo giocatore è un giocatore che se sta in contatto con con il giocatore è l'ultimo complicato Lava Ronaldinho Lava Ronaldinho insisti il botone al fronte Pico pedindo un penalti Amorezzo parte per cima Argentina sai Zé Roberto da trombada Nel giocatore argentino Ronaldo Solari completamente libre Penetra Raúl GOOOOOOOL Entre Marchena e Baraja Vean che ballone Normalmente le può assistire Raúl a Ronaldo Ronaldo a Raúl Raúl a Raúl por debaixo de las piernas Con Cañito incluido de Ayala Raúl consigue su gol 16 esta temporada Ronaldo Su kit Ronaldo Pococha Presionato Porcelias Laual Estan ahí Rivalizando En genialidades Ronaldinho Quien ha quitado la pelota Se lo envia a Ronaldo Se escapa Ronaldo De Naivet De Naivet Roberto Carlos al centro Manda dentro anche Canu Probabilmente al posto di Moriero Ma c'è tempo per lo slalom di Ronaldo Solari Sì 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 He pegato una sonrisa Aparte, quando miro Metzelder Senatore In real Madrid Si Si Atencio Atencio Ronaldo Atencio Ronaldo Davante ronaldon ronaldon siamo in fila pensare che la ronaldonante l'ancio 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 il corretto ma via la vaca razzarri che toccano dai jonten del volto io no di nuovo Flavio ha lasciato passare Ronaldo il ballone per Moroso Ronaldo busca un gioco tra i difensori del Valencia di Rivaldo e questo gli sta faltando Ronaldo che mi sembrava un gioco ha lasciato un gioco ha lasciato un buon lanciamento il gioco il gioco è impedito e credo che ha visto morire l'altra parte Gianetti per Ronaldo che bene si è passato Ronaldo la prima prova da Ronaldo il giurica i due uomini la qualità ronaldino dispara Ronaldinho e gol gol il gioco 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 bellino l'agricchismo è… il gioco il gioco è il gioco è il gioco il gioco il gioco di rischio l'agricchismo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti